eh? va al bracciale eh eh tra altre cose neanche una di me allora se ti fa un minatore che può essere che ci sia lì per portare il giro nel terzo dei 30 il tiro a 60 o 30 mili e se ne è beata 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 per l'estate e se ne è beata running back la mano la schermost